La Guardia di Finanza di Messina ha sottoposto a sequestro circa 165.000 articoli non sicuri in quanto privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore. L'operazione in questione è stata svolta dalle fiamme gialle del gruppo di Messina, finalizzata alla tutela dei minori in considerazione dell'imminente ripresa delle attività scolastiche. Nel complesso sono stati eseguiti tre interventi, nel corso dei quali sono state contestate violazioni amministrative nei confronti di altrettanti titolari di attività commerciali nelle quali sono stati trovati gli articoli destinati ad uso didattico. La documentazione fornita e le informazioni riportate sui prodotti esposti pubblicamente alla vendita non sono risultati sufficienti a garantirne la sicurezza. Nel corso dei controlli, inoltre, è stata notata anche l'assenza della marcatura CE che dimostra la rispondenza dell'articolo a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e il rispetto di tutte le procedure di conformità secondo le leggi in vigore. La merce destinata ai bambini in età scolare o in piena infanzia per la potenziale pericolosità dei prodotti, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto provocare seri danni alla salute. Gli articoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre i titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio di riferimento per l'irrogazione delle relative sanzioni.